METACINA Esce il sole nel solito cortometraggio in cui non succede niente. Anzi, nel solito cortometraggio sui corti in cui non succede niente. Alcuni lo chiamerebbero METACINEMA. Il mare è blu. Le strade sono pulite. I piccioni volano. Niente di speciale. Potete anche non guardare perché non succederà niente. Ma siete ancora qua? Guardate che nemmeno il cane è interessato al corto. Ops, stop. Fermi tutti. Scusate, ma mi ero dimenticato del suono. Chiedo scusa e ricominciamo da capo. Come vi dicevo, in questo corto non succede mai niente. o forse sì. Cos'è? Una sparatoria. Scusate. 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 Alcuni fuggono di corsa. Scusate. Scusate. Altri, invece, fanno finta di niente. forse se nessuno ha visto niente semplicemente non è successo niente e quindi la vita continua come prima nemmeno i cani abbaiano in realtà qualcuno che l'ha visto c'è eccolo è lui proprio lui ma purtroppo non oserà dire niente